Il bilancio è solitamente positivo e l'importanza è essere presenti, essere presenti con altre realtà, medio, piccole e grandi della provincia di Varese, insieme aiuta un'azienda medio piccola come la nostra, che comunque ha una vocazione internazionale importante e con Provex e Camera di Commercio ha avviato questo progetto sull'Australia che ci permette di essere oggi al tutto food, ma poi di andare anche in Australia, quindi a fare delle fiere. Noi abbiamo fortemente una vocazione internazionale per cui queste fiere sono l'ombelico del mondo per incontrare realtà internazionali, quindi siamo soddisfatti, c'è ancora tanto da fare ma la strada è quella giù sul tutto il mondo.